Allora Giuseppe, Beatrice è sempre molto diretta, lei è consapevole del sentimento che tu nutri per Samira. Tu dici a un certo punto, prima di addormentarmi, il mio sguardo doveva andare sempre e solo su di lei. Però poi di notte abbracciavi Beatrice. Come facevi? No, perché qualcosa non mi torna. No, ma comunque, molte cose vengono fraintesi. Il nostro sguardo, come anche con Anita, era l'ultima per dirci veramente buonanotte, chiudiamo qua questa giornata. Sì, vabbè, insomma adesso quello era un altro tipo di sguardo. No, no, era un segno di darci la buonanotte veramente, niente di che. E poi, cosa c'è di più bello alla fine? Andare a letto con uno, cioè dormire prima di guardare una donna, cioè negli occhi Samira. Non vedo nulla di male in questo. Questo ti consola Beatrice, eh? È un disastro. Eh, immagino. Grazie. Grazie.